Carrefour lascia, Coop Estense rilancia e il gigante francese della grande distribuzione ha chiuso i tre ponti vendita pugliesi e quello lucano, che sono stati acquisiti dalla cooperativa emiliana. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato dal presidente di Coop Estense, Mario Zucchelli. Fra settembre e novembre si conclude l'acquisizione di quelli per i mercati, sono quelli di Bari di Appaster, di Brindisi, di Cavalioni di Lecce e di Matera che avranno i segni per coppia. Per Cavallino, sentivo, ci sono dei problemi? Sì, il tema è l'antitrust, Coop Estense presenterà domande per poterlo gestire, se l'antitrust dovesse dire di no cercheremo una soluzione alternativa. L'acquisizione coinvolge 800 lavoratori ex Carrefour, ora in mobilità, che Coop Estense cercherà di assorbire senza escludere trasferimenti al nord, a seconda delle singole professionalità e disponibilità. Per Coop, che in Puglia gestisce otto ipermercati, tre supermercati e un magazzino di distribuzione a Rutiliano, l'operazione si traduce in un monopolio della grande distribuzione nella città di Bari. Grazie. Grazie.